Un furto con spaccata nella zona commerciale di Montecosaro Scalo è stato sventato questa notte dai carabinieri della compagnia di Civitanova che hanno arrestato in fragranza di reato quattro giovani romeni. Una scoribanda che ha lasciato il segno dopo aver derubato un circolo sempre a Montecosaro dove si erano impossessati di diversi capi di abbigliamento hanno imbrattato il tendone con scritte indelebili e hanno indossato i maioni rubati per rendersi irriconoscibili alle telecamere. Poi hanno piazzato un furgone rubato davanti al negozio outlet di un importante griffo di calzature da donna, oltre a diverse attività commerciali di ristorazione e bar. Una task force di carabinieri accorsa immediatamente da Civitanova e dalla stazione di Civitanova Alta, Montecosaro e Porto Recanati. Li hanno bloccati mentre stavano per effettuare la spaccata del punto vendita della Manas. Un furto che avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro di bottino. Uno di loro di 19 anni è stato identificato come ricercato. I quattro romeni sono stati trasportati al carcere di Ancona a disposizione della Procura di Macerata.